Una lunga storia di uomini e donne che hanno detto sì alla speranza del Signore. Durante la messa nella Cappella Santa Marta, nella solennità dell'Annunciazione, Papa Francesco ha enumerato i protagonisti di questa lunga catena, Abramo, Mosè, Isaia, Geremia e tanti altri, fino al Sì di Maria, che apre la porta al Sì di Gesù. E questa strada del Sì, ha rimarcato il Pontefice durante l'Omelia, deve farci anche pensare alla nostra vita, quante volte infatti durante ogni giorno siamo chiamati ad esprimerci tra un Sì e un No, perdendoci non di rado nel silenzio, con la testa bassa, come fecero Adamo ed Eva. È una giornata per ringraziare il Signore e per domandarci Io sono uomo o donna del Sì? O sono uomo o donna del No? O sono uomo o donna che guardo un po' dall'altra parte per non rispondere? Che il Signore ci dia la grazia di entrare in questa strada di uomini e donne che hanno saputo dire il Sì. a fare un po' dall'altro. A presto. A presto. A presto. A presto.